in passato avevo fatto un video in cui vi mostravo come fare il backup di gmail quindi come salvarvi in locale sul vostro computer tutte le email ricevute e inviate da gmail mi avete chiesto diverse volte invece com'è possibile poi andare ad importare queste email all'interno di un altro account gmail con quel metodo non è possibile farlo quindi una volta salvato in formato mbox non è possibile reimportarle in gmail ma andiamo a vedere come fare per importare le email da un account che può essere o gmail o qualsiasi altro tipo di account in gmail quindi ovviamente ci colleghiamo al nostro account nel quale vogliamo importare le email quindi l'account diciamo principale da qui andiamo nel menu impostazioni quindi andiamo sull'ingranaggio clicchiamo su visualizza tutte le impostazioni dalle impostazioni andiamo su account e importazione e da qui abbiamo due scelte la prima è importa messaggi e contatti la seconda è controlla la posta di altri account il metodo per importare gli account è praticamente identico in entrambi i casi cambia il funzionamento se selezioniamo importa messaggi e contatti gli account non verranno collegati questo significa che cliccando su importa messaggi e contatti si aprirà una finestra qui andremo ad inserire l'indirizzo email dal quale vogliamo importare tutti i messaggi e tutti i contatti ci chiederà di continuare inseriremo la password quindi faremo l'accesso a quell'indirizzo email e tutti i messaggi e tutti i contatti di quell'indirizzo verranno importati nel nostro account gmail ma si fermerà qui quindi avremo tutti i messaggi precedenti all'importazione quindi fino al momento in cui li andiamo ad importare quelli successivi non verranno importati mentre se invece di selezionare importa messaggi e contatti selezioniamo controlla la posta di altri account quindi clicchiamo su aggiungi un account email in questo caso se andiamo ad inserire un indirizzo email all'interno quindi di questo campo andiamo avanti effettuiamo l'accesso questo indirizzo email verrà aggiunto al nostro account gmail e potremo controllarlo direttamente da gmail quindi in questo modo possiamo inviare le email sia dal nostro account gmail col quale siamo collegati sia con l'account che stiamo collegando quindi Importa messaggi e contatti ci permette di importare i messaggi dagli AU, Hotmail, AOL qualsiasi altro fornitore di posta che supporti POP3 o IMAP quindi qualsiasi account email possiamo importare i vecchi messaggi quindi se stiamo chiudendo un vecchio account email possiamo importare tutti i messaggi all'interno del nuovo account di gmail se invece vogliamo controllare due account gmail da un unico accesso quindi scusate due account email in generale quindi non solo gmail direttamente dal nostro account principale gmail selezioniamo controlla la posta di altri account e in questo modo controlleremo l'altro account come se fosse questo principale quindi li controlleremo contemporaneamente possiamo aggiungere ovviamente più di un account quindi non è fondamentale aggiungerne uno solo possiamo aggiungerne due, tre, quattro quindi ripeto per concludere Importa messaggi e contatti ci importa i messaggi e contatti dagli altri account ma non li collega quindi possiamo avere la copia dei messaggi e dei contatti ma quell'account rimarrà separato è utile nel caso in cui stiamo chiudendo un account email non vogliamo perdere i messaggi e i contatti e ce li andiamo ad importare nel nuovo account gmail controlla la posta di altri account invece ci permette di collegare un altro account al nostro account gmail e quindi gestirlo direttamente dall'interno di gmail quindi possiamo gestire i due account quando scriviamo un email possiamo scegliere se inviarla tramite account gmail o tramite l'account gmail principale che è questo dal quale stiamo lavorando o dall'altro account che può essere sempre gmail come detto o qualsiasi altro fornitore un ultimo dettaglio soprattutto quando si seleziona controlla la posta di altri account ma vale anche nell'altro caso però nel primo caso se stiamo cancellando l'altro account email ci importa poco comunque quando selezioniamo controlla la posta di altri account ci permetterà di scegliere se l'account da controllare deve inviare la posta tramite pop3 o imap c'è una grossa differenza perché se selezioniamo pop3 le email inviate su gmail verranno cancellate dall'altro account per mantenerle su entrambi gli account selezioniamo imap come modalità di controllo quindi quando vi permetterà di scegliere in che modo inviare la posta da quell'altro account a quello di gmail selezionate imap quindi per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono i contenuti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao